Guarda, no comment. Nemmeno più quasi la forza di commentare. Così si esprimeva il senso di smarrimento, la rabbia, il dolore di molti degli esercenti di Vicenza. La nuova norme dettata dal nuovo ennesimo di PCM hanno lasciato un profondo senso di impotenza, nonostante si fossero rispettate alla lettera le precedenti disposizioni. L'apertura limitata alle 18 decreterà la fine di molte attività, dicono. Sostanzialmente viene considerato un vero e proprio secondo lockdown. Si poteva e doveva fare diversamente, è l'opinione più diffusa. È il nostro lavoro, è la nostra vita, ci stanno togliendo la nostra, l'anima nostra, ce la stanno estrapolando. Lo scenario che stiamo vivendo a livello italiano, sì, sicuramente la curva, però parlando del Veneto, il Veneto io lo vedo totalmente in sicurezza, sicuramente grazie. a tutto un tipo di realtà che si è costruita in questi mesi. Il Veneto si è preparato bene e secondo me era giusto fare delle zone rosse che sicuramente sono le grandi città, le cittadine più piccole. Ci hanno lasciato andare in vacanza quest'estate e adesso ci danno la colpa a noi. Dovevate pensarci prima, adesso siamo noi a doverci rimettere. Abbiamo colleghi che hanno chiuso e quando ti vengono a dire che sto chiudendo perché non ce la faccio più, ti si spezza il cuore. perché noi sappiamo quanti sacrifici questi colleghi ci hanno messo nelle loro aziende, specialmente un ragazzo giovane, ci ha creduto fino in fondo e adesso, dieci giorni fa, ha dovuto chiudere il suo locale. Lui, un altro collega, lo stesso. All'estero lo fanno però, li aiutano. Qua invece... L'hanno promesso che li aiutano? No, hanno promesso qua, ma dopo bisogna vedere promesse.